La cifra cifra è nostro e non lo prevediamo! Una Bergamo blindata fino a sera, così si è presentato il centro cittadino nella giornata di sabato 6 novembre, data scelta per l'inaugurazione della nuova sede di Forza Nuova. Una contestazione vissuta sul filo della tensione, fortunatamente non sfociata in incidenti. Per contestare l'apertura della nuova sede del movimento di destra, dalle 15 sono stati organizzati un presidio, una manifestazione di rifondazione comunista e dei movimenti di sinistra. Molte le bandiere rosse, tanti gli slogan contro il fascismo e anche contro le forze dell'ordine. Questa volta sotto l'occhio vigile del questore che ha prestato opera di mediazione tra i manifestanti, solo qualche spintone tra gli antifascisti in prima linea a un paio di poliziotti, nulla di più, diversamente da quanto successo il 28 febbraio del 2009. Assolutamente tranquilla, a parte il fatto ovviamente di una sede di neonazisti, dichiaratamente neonazisti, che viene aperta in una delle vie più multietniche e centrali della città, dove tra l'altro esiste una comunità islamica, vicino a Piazza Sant'Anna dove si trovano i migranti, a 50 metri dalla sede di un partito di sinistra, un'evidente provocazione per andare sui giornali e far parlare di sé. Dopodiché la situazione non è oggi, dove spero non succederà nulla, ma sarà questa convivenza difficile con questo quartiere e con quelli che già in questo quartiere ci stanno da decine di anni, perché è chiaro che non sono molto compatibili. Ordine Futuro ha aperto il proprio circolo presentando l'omonima rivista e organizzando una tranquilla giornata di festa identitaria, come dichiarato da Pierpaolo Nicora, responsabile di formazione di Ordine Futuro Bergamo. Dovrebbe essere, secondo la Costituzione, fuori legge, e che non dovrebbe nemmeno esistere nel nostro paese, non perché lo dice una legge, ma perché lo dice la Costituzione. Quindi, voglio dire, questo è un paese molto curioso dove nemmeno la Costituzione viene applicata. Via! Via! Capoli! Via!